Una domanda, ma lei si è pentita dei banchi a rotelle? Ma no, perché mi sarei dovuta pentire? I banchi a rotelle sono stati scelti dai dirigenti scolastici insieme ai banchi monoposto, i banchi che volevano. L'ho detto Giannelli qualche giorno fa, basta con questa polemica strumentale, noi dirigenti abbiamo scelto i banchi. Non vedo che c'è un'inchiesta in corso, però... E li abbiamo, quelli che abbiamo scelto abbiamo... I banchi a rotelle si muovono, quindi diciamo, in una situazione in cui uno deve evitare l'assembramento, il banco a rotelle per esperienza diretta so che è un problema in classe perché si muovono i ragazzi. Però mi creda, il banco, e lo hanno scelto appunto i dirigenti in base alle modalità didattiche che volevano attuare nella loro scuola, l'investimento sui banchi è chiaramente stato pensato anche per rispondere alla pandemia, ma non solo, perché quei banchi lì, ancora non si è capito, esistevano dal 2012 in Italia, perché permettono di fare i dirigenti. Però mi pare che... Non so se concita Susanna Turco e l'ottimo Marciano,